Com'è promesso, nella scorsa puntata siamo tornati operativi, sono sempre io, Filippo, che è il vostro Serpippo, che ora analizzerà brevemente la giornata di ieri. Allora, la Juventus continua ad avere un ruolino di marcia impressionante, ha vinto contro la Roma grazie al gol di Manzo, che ci ha mantenuto la distanza dal Napoli, che ha sofferto ma ha battuto la spalla per 1-0 grazie alla rete di Albiol. Bene anche la Lazio, che si riprende il quarto posto, battendo il Cagliere 3-1. Piccola flessione su Luis Alberto, che è uscito un attimo malconcio e oggi e domani dovranno capire i medici se può essere arruolato contro il Bologna. Male l'Inter che pareggia per 1-1 contro il Chievo. Chievo che nelle ultime partite è riuscito a fermare sia la Lazio sia l'Inter, sempre con un gol di Pellissier, quindi Sergio sta mantenendo il suo trend positivo. Per quanto riguarda il Milan, il Milan ha perso 1-0 contro la Fiorentina, con un bel gol di Chiesa, che ha portato così i Gigli a ravvicinarsi, riavvicinarsi, anzi per meglio dire, alla zona Europa. Bene la Sampo Doria grazie a un Super Caprari che demolisce l'Empoli 4-2. Bellissimo il gol anche di Quagliarella, l'ennesimo. Si è ripreso anche Ramirez dopo i fasti brutti delle scorse partite, sta mantenendo un trend positivo e la Sampo sta vincendo. Malino il Torino che ha pareggiato 1-1 con la Sassuolo, mentre per quanto riguarda la zona bassa vado riepilogando con il nostro Almanacco. Il Genoa vince 3-1 contro l'Atalanta, spingendo gli Oroboci dopo aver vinto contro la Lazio due turni fa, in zona medio calda, mentre pari tra Parma-Bologna e Udinese-Frosinone. Nei prossimi giorni ci saranno delle analisi più accurate, avrò degli ospiti, dove parleremo dell'analisi dell'Inter, della Juventus, del Milan, della Lazio e delle partite che ci saranno nel prossimo turno. Un saluto e ciao!